Buongiorno e benvenuti ai consigli di nonno Vincenzo. Oggi vi mostreremo come prelevare i vecchi bulbi di zafferano dal vaso ed estrarre i nuovi. I bulbi che hanno già prodotto il fiore quest'anno. Allora, questi sono i vecchi bulbi che hanno prodotto dei nuovi bulbi. I nuovi bulbi per il primo anno non daranno nessun frutto, quindi nessun fiore, mentre i vecchi bulbi, quindi quelli più grossi, più maturi, sono quelli che produrranno i pistilli di zafferano. Ecco come seminare i vecchi bulbi e i nuovi bulbi di zafferano sul vaso. Vanno sistemati in questa maniera, a questa distanza. Stessa cosa faremo con i piccoli bulbi. Adesso basta ricoprire con un po' di terriccio i bulbi. Questo terriccio noi l'abbiamo prelevato sotto l'albero di carrube. Utilizziamo questo terriccio perché è già concimato naturalmente con le stesse foglie dell'albero. Il materiale utilizzate in questo video potete acquistarlo sul sito www.banggood.com Lì troverete una vasta gamma di prodotti, attrezzi ed utensili per il fai-da-te e il giardinaggio. Ricordatevi www.banggood.com oppure cliccate sui link sottostanti a questo video. Grazie. E dei consigli di nonno Vincenzo è tutto. Alla prossima. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.